Musica Venerdì 14 ottobre avrà luogo presso l'aula magna dell'azienda ospedale di Caserta un convegno dal tema tumori cutanei e approccio multidisciplinare. In questo incontro noi parleremo di tumori cutanei e specificamente anche di melanoma perché sono neoprasie molto incidenti in rapida evoluzione di cui spesso si parla poco e di cui spesso c'è una gestione non completa e quindi il nostro compito è stato quello di sensibilizzare tutte quelle figure professionali che a vario titolo si trovano ad affrontare tale patologia. Dal registro tumori dell'azienda di Caserta del 2016 si evince come ci sono stati nuovi 76 casi di melanoma con 21 decessi e appunto da questo noi partiamo perché uniti è meglio, l'unione fa la forza quindi ci incontreremo tutti dai medici di medicina generale, dermatologi, chirurghi, chirurghi plastici, oncologi per fare il punto sul tema. Noi parleremo di territorio, parleremo di screening, di prevenzione, di dermatoscopia, di terapie locali, di nuove terapie oncologiche, farmaci biologici, chirurgia ricostruttiva, linfonodo, sentinella e tutto quello che in qualche modo gira intorno a queste neoplasie. Riteniamo che questo percorso potrà essere motivo di confronto e di crescita per tutti quanti sperando di aver intrapreso la strada giusta e che questo ci porterà ad avere i migliori risultati possibili per i nostri pazienti. Grazie.